Il Dottor Watson Mi scusi, abita qui il Dottor Watson? Come il Dottor Watson? Certamente, il mio nome è Tabuki. Il Dottor Watson Salve! Ma... Lei sta cercando mio padre per caso? Lei è la signorina Watson? Sì, sono sua figlia. Lavoro come assistente. Molto lieto. Il mio nome è Jota Buki. Oh! Mi piacerebbe incontrare il Dottor Watson. Ma lui non sta qui. Bene, e dove lo trovo? A Greenil 25. Greenil 25? È inutile che vada lì. Ehi, aspetti un momento, la prego. Io ho fatto questo viaggio sperando che il Dottor Watson mi aiutasse a scoprire qualcosa riguardo mia madre. La prego, perdoni il mio comportamento. La capisco, ma ero sorpreso perché è andata via così. È triste pensare a mio padre. Ma come è successo? Ascolti, mio padre è morto in un incidente d'auto. In un incidente d'auto. È stato sulla strada di Northview. Northview? Sì, è vicino al Grand Canyon. C'è un laboratorio solare là. Un laboratorio solare? Signor Tabuki, voglio chiederle alcune cose. Dopo aver ricevuto questa lettera, rimase sconvolto e decise immediatamente di recarsi a Northview. Ma questa è una lettera del Dottor Wakatsuki. Parla di mio padre e di mia madre. I vostri... Sì? Mio padre era molto dispiaciuto per quanto era caduto al Dottor Tabuki. Eh? E che altro sai? Beh, non so altro. Ho deciso, bisogna che vada a Northview. È meglio andare in aereo a Las Vegas e poi da lì noleggiare un'auto. Grazie. Pronto, è urgente! Capitano, c'è una chiamata da San Francisco per lei. Mi scusi. Sì, Eric. Cosa dite? Joe è a San Francisco? Cosa? È andato all'Accademia Internazionale delle Scienze per vedere Watson. È solo. Perché Joe è andato là? Non lo so. Voi ordinaste di uccidere Watson, perché? Sono affari miei e non vostri. Voi dovete occuparvi soltanto di Joe. D'accordo, regina. Uccidetelo! Stessi sistemi usati per Watson, chiaro? Lo uccideremo. Torno all'isola dei demoni, che l'aereo sia pronto. Cosa? All'isola? Accidenti, come come? Corri. Ehi! Ma cosa sto facendo? Ah! È troppo veloce. Avrà un motore speciale. Potrebbe essere un motore a energia solare. I demoni! Ma sono al massimo della velocità! Ma sono al massimo della velocità. Ma sono al massimo della velocità! Ma dove va? Quel camion era dei demoni Ma sembra il jet della regina Gio, è troppo pericoloso per te andare a Northview E lo è anche per me Maledetta regina Ah, questo allenamento è proprio monottono Se non possiamo allenarci, Kajumi, è perché siamo fuori forma Sono preoccupato per Gio che è solo in America Non è come te, Kajumi Vorrei sapere perché il dottore non mi ha mandato con lui Non mi chiamo a Pashkent per niente Conosco l'America io Ehi, voi Eh? Cosa state facendo? Eh, una pausa Forza a tutti quanti sul jet D'accordo, mi sgrida dopo Su, muovetevi Padre, ma dove andiamo? In America In America? Joe è in pericolo Leggete Dice che la settimana scorsa il dottor Watson è morto Allora Joe non incontrerà il dottor Watson? Così Joe, essendo solo, potrebbe essere in pericolo Padre, ma pensi davvero che i demoni uccideranno Joe? Sono sicuro che tenteranno Faremo di tutto per aiutarlo, dottore Joe! Joe! Eh? Centottanta miglia a Northview È lontano ma ci arriverò comunque Eh? Bene Ehi! Ferma! Joe! Susanna! Ma dove vai Joe? Sono stato attaccato dai demoni E tu perché sei qui? Ho dimenticato di dirti una cosa Joe, guarda L'ho trovata nella tasca di mio padre Ma non so di dove sia Non sai di dove sia? No, non lo so Dopo la tua partenza ho trovato il diario di mio padre E allora? Sulla pagina del giorno precedente all'incidente c'è scritto È stato un grosso errore presentare quella donna al dottor Tabuchi Quale donna? Susanna, tu non hai idea di chi possa essere quella donna? No, non ne ho proprio idea Penso che mio padre volesse riparare all'errore commesso col dottor Tabuchi Ma non ne ha avuto il tempo Grazie Susanna Sono convinta che scoprirai molte cose a Northview Anch'io Joe, guardala dietro Sono i demoni Via Dannazione, non possiamo farcela Ci prenderanno Joe, guarda Siamo arrivati al Grand Canyon Cosa? Conosco molto bene questa donna Lascia che guidi io Come? Sono un ottimo pilota io D'accordo allora Dai, su, forza, guida tu Fui Susanna Scusami Joe Ma è per salvarti dai demoni Susanna Oh, ma che significa? È il segnale del trasmettitore dell'orologio di Joe Dovrebbe essere qui attorno Sa che io Controlla accuratamente Sì L'ho trovato Sta verso Nord Bene Oh, è lì Dottore Joe Meno male Joe, come sta? Come sta? Per fortuna sei io Forza, partiamo subito La figlia del dottor Watson è in pericolo Solpita Non è giù Le macchine tigri Cosa? Via, presto Allora ragazzi State tutti pronti Attenzione Macchina destra pronta Macchina sinistra pronta Macchina centrale pronta Macchina posteriore pronta Quadra di guida unita Via La figlia del dottor Watson è in pericolo La figlia del dottor Watson è in pericolo Oro La figlia del dottor Watson è in pericolo Accidenti Finiamoli una volta per tutte Salvo della tigre Ciao, dei missili contro di noi Cosa? È impossibile riuscire a sfuggire a questi missili Joe, ci prendono Azione disturbo Ci sta arrivando addosso Sta per coi picchi Salto della tigre Venga a Casina Susanna, coraggio Oh Joe, dove sono i tempi? Sono morti Perché mi hai spinto fuori dalla macchina? Io volevo Io volevo solo salvarti da loro Joe Perdona mio padre Joe Lui aveva sbagliato Ed io volevo soltanto riparare Oh Susanna Oddio Joe Susanna 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 Eh? Io ho già visto questo castello Sì, ricordo che passeggiavo in questo viale mano nella mano con una donna Ma non riesco a ricordarla Non ricordo il suo viso, ma ricordo le sue mani molto bianche che apparivano così aggraziate ed eleganti C'era un bell'anello al suo dito Chi era quella donna? Gio, vieni qui Che c'è? Ma quello è il re dei deboli Ehi, guarda questa donna, sembra tua madre, cio Stai zitto Nel ritratto visto al castello Gio ha scoperto che sua madre era con il re dei demoni Cosa c'è nel pacco che Uzuma, vecchio amico di suo padre, gli ha dato? Ogni cosa verrà rivelata nel prossimo episodio una dolorosa scoperta Nel prossimo episodio di Gattiger, il nostro Gio è alle prese con uno sconcertante dilemma Chi è la donna del ritratto e chi è il vecchio che si aggira nelle sale dell'antico castello abbandonato Quel castello in cui Gio era già stato tanto tempo prima e non da solo I dubbi e gli interrogativi del nostro giovane eroe saranno sciolti nella prossima emozionante puntata di Gattiger Gio ha scoperto che ogni giovane ero